Saremo pronti ad ottobre in questo bellissimo museo come Louvre di risorse italiane, tutte concentrate, esposte anche da consumare, fruibili girando in bici all'interno di questi bellissimi percorsi dove si vedranno allevati gli animali, coltivata la frutta, la verdura, persino la tartufaia. Noi giovanotti del team Enrico Bartolini rappresentiamo anche le soste, l'associazione e proporremo una proposta gastronomica che si guarderà ben intorno all'interno dei Fabrica Italiana Contadina e poi coinvolgeremo sei volte l'anno dei colleghi che dall'Italia verranno a rappresentare la loro cucina, la biodiversità nel nostro piccolo e bello ristorante.